In attesa di capire cosa accadrà con il pacchetto Baxi-Pengo, è il tema del Genius Center a spaccare in due la politica cittadina. Tanto che torna a parlarne anche l'ex vice sindaco Roberto Marin, che parla di un progetto forzatamente bandierina, assente di ogni possibile percorso di analisi, informazione e condivisione con la città. Marin suggerisce ai suoi ex compagni di giunta di dedicarsi a progetti, si legge in una nota, che arricchiscano Bassano e i bassanesi invece di sottoporli a debiti lunghissimi e costi improponibili. Pure il PD va all'attacco del progetto accusando l'amministrazione Pavandi di non aver rispetto dei soldi dei bassanesi e chiedendo alla giunta di fermare l'iter per evitare di indebitare i bassanesi in futuro. Tutto questo in attesa della conferenza stampa delle minoranze congiunte che si terrà domattina proprio per fare il punto sul Genius Center.